Il nostro viaggio a partire da Rieti, centro d'Italia, attraverso le incantate strade della Sicilia, ci ha portato infine a quella che possiamo definire un'autentica meraviglia, Trapani, e al suo sindaco, il quale si chiama Vito Damiano, sindaco di Trapani, una città meravigliosa che ci ha regalato i colori del sogno e l'incanto di dimensioni subliminali e surreali, una città da visitare, una città in cui tornare. Noi siamo arrivati nel segno della sicurezza stradale, un progetto nazionale che parte da Rieti, centro d'Italia, e che vuole gridare più forte che mai, basta vittime della strada, in un simbolico viaggio fra le vittime della strada. Sindaco, l'attenzione della sua città a questo tema così importante? Ogni anno nel mondo più di un milione di morti, cifre da catastrofe planetarie. Sì, noi abbiamo accettato questo invito per l'iniziativa del Comune di Rieti, che io voglio ringraziare nella persona del sindaco e di tutti gli abitanti, i re Atini, è bene dirlo. Abbiamo accettato questo invito a far parte, a partecipare, comunque ad essere parte attiva di questa campagna che vuole diffondere la sicurezza non solo sul territorio nazionale, ma in senso generale su tutto il territorio planetario, come diceva lei poc'anzi. Purtroppo noi viviamo ancora oggi dei momenti di difficoltà nel far comprendere alla cittadinanza che il rispetto delle regole è di fondamentale importanza non solo per la sicurezza stradale, ma anche per evitare quei danni enormi, non solo alle persone, quindi morti, feriti e quindi invalidità, a volte permanenti, gravi, che pesano poi anche sull'economia, non solo locale, ma anche l'economia nazionale. Con scarsi risultati, devo dire. Quindi che benvengano queste campagne di sensibilizzazione. Mi auguro di avervi ancora nel mio territorio. Ringrazio di queste parole che sono molto lusinghiere nei confronti della città di Trapani, che effettivamente, oggettivamente, almeno da quello che dicono coloro che vengono a visitarla, la trovano assolutamente incantevole e che merita di essere vissuta ancora più intensamente. Con il nostro camper serigafato, con temi legati alla sicurezza stradale, con un messaggio di fondo che vorremmo fosse ben compreso. Tornare indietro non è possibile. Certo, bisogna andare avanti, guardare avanti, guardare avanti con fiducia, con speranza, perché siamo certi che queste attività che vengono promosse per sensibilizzare l'opinione pubblica, per fare crescere culturalmente le popolazioni, hanno una loro valenza, servono assolutamente. A volte qualcuno, magari pessimisticamente, dice ma cosa serve fare tutto ciò, è un dispendio di energie, di tempo, tanto non si risolve nulla. Non è assolutamente vero. Ogni campagna di sensibilizzazione lascia il segno. È un seme che viene gettato nel terreno della nostra società e che nel terreno della nostra società si sviluppa e dà luogo a quella pianta che è il cambiamento culturale, in senso positivo ovviamente. Le consegniamo un elemento di riflessione molto rapida. La ipertecnologia del terzo millennio metterebbe a disposizione soluzioni definite e definitive. Ancora non abbiamo in tal senso risposte. Proviamo a immaginare, per esempio, giocando con l'immaginazione, a un limitatore di velocità obbligatorio da collegarsi a un dispositivo GPS che adegui automaticamente la velocità consentita a quella effettivamente realizzata dal mezzo. Di innovazione tecnologica ormai stiamo subendo di tutto e di più. Sicuramente sono strumenti che possono aiutare, che servono sicuramente, però è di fondamentale importanza l'uomo. È sempre l'uomo al centro dell'attenzione, è sempre l'uomo che deve decidere cosa vuole fare, quale atteggiamento vuole prediriggere rispetto ad un altro che da biasimare. E arriva da Rieti, centro Italia, il gagliardetto della città Sabina, in segno di simbolico gemellaggio con la città di Trapani, nel segno della sicurezza stradale. Bene, sono molto soddisfatto di questo. Anche Trapani ha il suo gagliardetto che dona, chiaramente con tanta gioia, alla città di Rieti. Accettiamo di buon grado questo gemellaggio per la sicurezza e chissà che magari fra sindaci non ci incontreremo qui sul territorio e magari in moto con il casco ben allacciato in testa andiamo a fare un giro per i magnifici luoghi di Trapani e perché no, anche di Rieti, qualora io dovessi decidere di venire su da voi. Lei è ovviamente invitato a Rieti, centro Italia, magari per il cammino di Francesco e questo splendido cammino di fede, di anima, immaginando San Francesco testimonial simbolico, ideale, splendido di questa campagna. Io le faccio concludere l'intervista nel senso e nel segno del nostro viaggio. Noi inviamo cartoline d'autore dalle città che visitiamo volendo con ciò promuovere la bellezza della vita, la tutela della vita attraverso le bellezze della vostra splendida isola. Se lei dovesse mandare una cartolina da Trapani, quale cartolina le piacerebbe inviare? Diciamo che è una cartolina che riprende la città di Trapani che si sviluppa sul mare e quindi si estende sul mare come se fosse una falce. Infatti il nome Trapani deriva dal greco drepanum o dal latino drepanum che significa proprio falce. Poi vi potrò raccontare la leggenda della falce caduta sul territorio, eccetera. Comunque i colori sono quelli fondamentali. Il blu del nostro mare, l'azzurro del cielo, l'intensità della luce che è una luce assolutamente particolare che è apprezzata soprattutto dai fotografi e da coloro che lavorano nel settore della fotocinematografia. Poi non solo i colori ma anche i sapori, gli odori perché si percepiscono odori particolarmente intensi che sono gli odori della nostra terra, quindi il profumo del gelsomino, il profumo dei fiori d'arancio, delle zagare, eccetera. Quindi poi non voglio aggiungere altro perché voglio lasciare la sorpresa a chi ha deciso di venire a scoprire questo luogo meraviglioso. Ed allora Fiat Lux sia la luce da questo splendido territorio, da questa magica terra, gridando insieme al sindaco di Trapani, alla città tutta, basta vittime della strada. Sicuramente, ci associamo assolutamente a questo messaggio che viene lanciato. Basta vittime della strada.